Radio S Speciale mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia All'interno dello spazio Lancia incontriamo Dario Argento che è venuto qui per omaggiare Shimizu che ha presentato qui un lavoro un horror, quindi il maestro dell'horror italiano Sì, più che per omaggiarlo, per stargli vicino non è che c'è bisogno di tutti questi omaggi per stargli vicino che è un film molto interessante, ben fatto Che cosa ha apprezzato di più? Lui è un maestro dell'horror orientale io adoro il cinema orientale quello inquietante, horror sia giapponese che coreano quindi sono stato già in Corea, in Giappone varie volte ho visto molti film, molto interessanti Ha visto anche un loro, diciamo così, omaggiare l'horror europeo in una certa maniera? Beh sì, i miei film sono molto popolari in quei paesi e alcuni sono proprio direttamente ispirati ai miei film E' riuscita a vedere qualche lavoro qua a Venezia? o è una toccata e fuga questa della UE? Non ho avuto possibilità di vedere niente stasera, adesso vedrò il film sulla Titanus e basta e poi riparto Possiamo chiedere dei suoi progetti futuri a che cosa sta lavorando? No, ancora non si può di niente